Taranto-Talsano, Viale Unità d'Italia, siamo dinanzi al Civico 801 dove c'è appunto, ci sono le officine, gioli officine, guardate come è ridotto il manto stradale, lavori fatti per conto di Acquedotto Pugliese, guardate come è sprofondato il manto stradale, letteralmente collassato, sprofondato, poi si è provveduto a mettere del materiale più o meno per tamponare, ma davvero c'è un fosso, un avvalamento, lo vedete? Io mi domando, cari signori di Acquedotto Pugliese, siccome questo non è l'unico caso di sprofondamento ma anche basta andare un po' più avanti, scusate ma come li avete fatti, come sono stati realizzati questi lavori? Fatemi capire, ma è modo di realizzare i lavori? È modo di danneggiare il manto stradale del comune di Taranto? No, ditemi voi, perché già ho fatto vedere in altri punti della città come le ditte incaricate da Acquedotto Pugliese lavorano malissimo perché creano avvallamenti, perché creano come dire dossi e cunette, passatemi questa espressione, qui proprio lo strapiombo e lo vedete mentre sta passando qui la macchina, guardate proprio qui si scende di livello, facciamo come dire le montagne russe, ma come li avete fatto questi lavori? Signori di Acquedotto Pugliese, o meglio la ditta incaricata, Acquedotto Pugliese deve darsi da bella regolata, va bella bella bella, perché non è possibile che noi ci dobbiamo trovare inguaiati per lavori fatti con i piedi. E allora, cari signori di Acquedotto Pugliese, andate a verificare, vedete come le vostre ditte lavorano, quello che producono a Taranto, lo schifo che si produce, i danni che si producono. Mi rivolgo a te, Lucio Lonocce, consigliere comunale di Taranto, nonché consigliere di amministrazione di Acquedotto Pugliese, caro Lucio Lonocce, io non devo aggiungere altro, penso che queste immagini parlino da sole. È modo di lavorare? È modo di lavorare questo? È modo di deturpare, di stuprare, tra virgolette, il manto stradale, il suolo pubblico a Taranto? Lavori fatti da poco e si precipita. Evidentemente non ci vuole uno scienziato a capire che sono stati fatti malissimo con i piedi. Giudicate voi cittadini, ma poi alla fine, al di là dei gravi errori commessi dalla ditta, c'è un fatto ancora più, credetemi, nauseante, mi sono stancato di dirlo e di ripeterlo, ma poi c'è un fatto davvero raccapricciante, mi sono stancato di ripeterlo, l'inefficienza della macchina del comune di Taranto, l'assessorato ai lavori pubblici, l'ufficio manomissioni del suolo, ma voi non andate a controllare. Voi praticamente, non lo so cosa devo dire, che vi siete addormentati, perché le ditte fanno i cazzi propri, perché voi non controllate, questa è la verità, voi non controllate. Una volta finiti i lavori dovreste sgambettare, venire e dire cosa hai fatto, cosa hai fatto, che hai combinato, è stato realizzato il lavoro a regola d'arte? Nulla. E questi sono i risultati. Guardate, guardate. Acquedotto pugliese, settore lavori pubblici, sindaco Melucci, sveglia, sveglia, che dormire troppo fa male alla salute, dormire il giusto sì, ma dormire troppo fa male alla salute e soprattutto fa male alla città.